Sì, andiamo indietro la cavallo nel 49-50, avevo l'età di 8-9 anni, veniva in ottunno, a questi tempi, veniva uno di Treviso, a queste biciclette qua, faceva il giro nel contadino per ruotare i coltelli al palzano, i piedi, quelli per tagliare la legna, andare a votare in campagna. Si ricorda il suo nome? Di Treviso, veniva con un carrettino? Veniva con un carrettino. Non con una bici? No, si portava la bici così, con una bici, ma veniva con un carrettino e aveva un cavallo con lui. Ah, un cavallo? Noi mettevamo il cavallo, dormiva lì da noi, mettevamo il cavallo nella casa e si fermava lì a dormire, a ruotare i coltelli e dormiva con un cavallo. Tutti a cavallo, perché facendo il giro da un contadino all'altro, facevano tutti i contadini, in inverno e bagnato. Faceva il giro, si caricava sul carallo così, proprio e sembrava, quando non trovava da dormire, sopra c'era il tendone sul carro proprio, sembrava una biroccia un po' grande, che cercava la sua bici.